Non è possibile un'Italia così, da tre quarti d'ora che sono cascato c'ho fuori la spalla, sto aspettando che arrivino i soccorsi e non arrivano. È diventato un mondo proprio, scusate la parola, di merda. Provare per credere. È rimasto così per oltre un'ora, disteso a terra sul ghiaccio aspettando i soccorsi. Momenti di sofferenza per un bremese di 50 anni che ha avuto semplicemente la sventura di scivolare sul ghiaccio nel momento sbagliato. Sbagliato. Erano le ottime in un quarto quando questo signore è caduto in un cortile a breme, ha subito avvertito un forte dolore alla spalla e non riusciva a rialzarsi. Immediatamente alcune persone sono venute in suo aiuto ma prudenzialmente hanno preferito non muoverlo per evitare di procurargli ulteriori ferite. È partita una chiamata al 118 e lì sono iniziati i problemi. A che ora hai telefonato al 118? Abbiamo telefonato, siamo in attesa da un quarto alle otto, adesso sono le otto e mezza e passa, hanno risposto finalmente. Però io sono qua, la spalla fa male tutto, sono sul ghiaccio come vedete, non è possibile andare avanti così. Oltre 20 minuti soltanto per prendere la linea con un centralino intasato dalle tante telefonate ad emergenza per i problemi creati dal ghiaccio in tutta la provincia. Quando finalmente si è riusciti a parlare con un operatore è iniziata l'attesa per l'arrivo dell'ambulanza. È in una zona lontana dai principali ospedali e con problemi di viabilità dove spesso, quando succede qualcosa di grave, si è costretti a chiamare direttamente l'elisoccorso. L'ambulanza è arrivata quando erano ormai quasi le 9, esattamente 70 minuti dopo l'incidente. Il ferito è stato caricato su una barella e portato in ospedale. Le sue condizioni non sono preoccupanti ma rimane la rabbia per un territorio che ancora una volta ha difficoltà a vedersi riconosciuto un servizio fondamentale. Non è possibile un'Italia così, da tre quarti d'ora che sono cascato c'ho fuori la spalla, sto aspettando che arrivano i soccorsi e non arrivano.